Pressa universale per lo stiro contemporaneo delle due gambe del pantalone. Ciclo completamente automatico per una piega duratura. Funzionamento pneumatico, compressione regolabile. Massima semplicità e produttività, anche con un operatore non specializzato. Produzione oraria elevatissima, fino a 40 pezzi ora. Assicura la massima efficienza e qualità nello stiro. Pony, la migliore soluzione per lo stiro professionale.